Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha formalizzato questa mattina le dimissioni davanti al segretario generale Francesca De Camillis per protestare contro l'approvazione del progetto di realizzazione della centrale a compressione della SNAM. Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco va avanti nella sua decisione di voler concludere il mandato se non sarà revocata la decisione del governo. Da oggi partono i 20 giorni previsti per legge al termine dei quali le dimissioni, se non ritirate, saranno irrevocabili. Che la Casini sia decisa a fare sul serio lo dimostra dalla richiesta inoltrata al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di ripensare quella decisione scellerata, come è stata definita dallo stesso sindaco. La prima cittadina ha chiesto a Gentiloni di essere ricevuta a Palazzo Chigi venerdì. Se il governo confermerà la decisione, il sindaco riconsegnerà la fascia tricolore direttamente nelle mani del primo ministro. La scelta, maturata nel pomeriggio del 23 dicembre, ha spiegato si è resa necessaria per denunciare l'inaccettabile decisione del governo di concludere il procedimento per la realizzazione della centrale a gas della SNAM, dichiarandola opera di importanza strategica e di preminente interesse nazionale. Il comune di Sulmona, l'intero territorio e le istituzioni locali hanno da sempre ripetutamente dichiarato la contrarietà alla centrale e al metanodotto, ritenendole nocive e fortemente impattanti, confrontati anche da studi e perizie scientifiche. Il mio atto è un voler alzare la posta della battaglia della denuncia, ha concluso utilizzando l'unica arma ancora in mano ad un sindaco, stante la palese circostanza, che un amministratore locale non ha voce in capitolo per determinare le sorti dei suoi cittadini. Lotterò al fianco della mia città e dell'intera Valle Peligna contro la realizzazione della centrale del metanodotto e voglio tenere accesi i più possibili riflettori su questa grave vicenda. La cittadinanza di Sulmona e di tutta la Valle Peligna avrebbe meritato un altro regalo di Natale da parte del Governo nazionale, che proprio a ridosso delle festività, con un blizzi istituzionale, ha rimesso in corso la realizzazione della centrale SNAM. A sostenerlo è anche il direttore della Conf Commercio dell'Aquila, Celso Cioni. La nostra organizzazione aggiunge e esprime piena ed incondizionata solidarietà con le popolazioni interessate e con la sindaca Casini, che ha inteso rassegnare le prove di missioni in segno di forte e convinta protesta contro la realizzazione dell'indesiderato impianto e si dichiara pronta e disponibile ad affiancare ogni iniziativa che le popolazioni e le istituzioni peligne intenderanno porre in campo al riguardo. Conf Commercio rivolge un sentito appello anche al Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, per invitarlo ad intervenire prontamente a difesa del territorio dell'intera Valle Peligna.